Piegamenti in braccia con rotazione del tronco, mantengo sempre l'allineamento del tronco, braccia in barri rispetto alle spalle, eseguo il piegamento completo, tocco, quando risalgo su, perfetto, da questa posizione, stacco un braccio, va in rotazione, ok, la posizione in rotazione è la seguente, il braccio è avvineato, i piedi si girano, ok, e questo lavoro ci fa lavorare molto la muscolatura degli addominali laterali, ok, ritorno in posizione, i piedi seguono il movimento, eseguo l'altro piegamento, risalgo e ruoto dall'altro lato, e ritorno in posizione, e stop, vieni, eseguo il piegamento completo, risalgo, mantengo l'antenuta addominale, stacco il braccio, rotazione, il braccio è perfettamente teso che guarda verso l'altro, ritorno, scendo, ok, ristendo e ruoto dall'altro lato, importante è anche mantenere il bacino sollevato, ritorno e stop, ok.